Wabalaba dab dab e bentornati su una mamamazzo, bentornati nella rubrica dedicata a Dylan Dogg, l'indagatore dell'incubo. Quest'oggi parliamo di Dylan Dogg numero 415, vendetta in maschera. Vendetta vera, non finirò in galera. Prima di cominciare, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivete al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, raggiungiamo la cifra tonda, eh. Iscrivetevi anche a tutti gli altri miei social per rimanere aggiornati su quello che faccio fuori da YouTube e rimanete anche sintonizzati perché potrebbero ricominciare le live su YouTube e per quanto riguarda Dylan Dogg potremmo parlarne con un appuntamento fisso a fine mese. Dylan Dogg 415, vendetta in maschera, storia di Gabriella Contu e disegni di Andrea Kella. Come dice Recchioni stesso nel suo editoriale, la Contu potrebbe aver preso ispirazione da questa storia liberamente dal Signore delle Mosche e lo stesso Andrea Kella è un disegnatore comunque affermato perché anche a livello internazionale ha già disegnato per la colana Star Wars. Ciò nonostante, l'ho voluto dire come premessa, ciò nonostante a me questo numero non mi è piaciuto per niente e questo è anche il motivo per cui solitamente io faccio il video appena esce Dylan Dogg, quindi è uscito il 31 marzo, alla peggio avrei potuto farlo uscire il 2 aprile, visto anche il video del pesce di aprile che vi ho fatto insieme al buon Luca DJ, ma ho voluto aspettare un po' di più perché non mi capitava, anzi non mi è mai capitato, di essere arrabbiato dopo aver letto una storia di Dylan Dogg. Come sapete io ho anche fatto la scenetta dell'hater su quelle persone che si indignano per i numeri che non sono più come i primi cento, così, però devo dire questo numero io davvero non l'ho digerito ed è strano perché ho visto che alcuni miei colleghi che spesso, colleghi scusate, scusate la presunzione, che la pensano come me hanno apprezzato questo numero, anzi lo considerano una conferma dal mese scorso come un bel cambio di direzione che ci sta portando a qualcosa di bello. Io invece che ho adorato il numero del mese scorso, ve lo metto qui nelle schede, magari in descrizione se volete andarlo a rivedere, in questo numero davvero ho trovato qualcosa che non mi è piaciuto e adesso ve lo vado a spiegare. Non farò un video spoiler, non vi voglio parlare tanto della trama di questo numero, ma delle cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso, quindi se anche non l'avete letto potete guardare questo video e poi comunque acquistate il fumetto, cioè non è perché a me non è piaciuto che non dovete prenderlo assolutamente, io voglio che voi facciate la vostra opinione e che torniate qua sotto al video a dirmi, sei un cretino, non hai capito niente di questo numero, perché è molto probabile, per carità. Fatto sta che questa vendetta in maschera ha un inizio molto recchioniano, io lo definisco così, dove c'è una forte narrazione per immagini. Vediamo che si sprecano ben una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto vignette senza dialoghi in cui vediamo semplicemente questi ragazzi muoversi, quindi è anche molto dinamico, molto americano se vogliamo, però a discapito, e poi ci sono altre, una, due, tre pagine intere dove appunto questi ragazzi agiscono senza altrettanti dialoghi, è tutta un nafsed, vediamo solo il movimento di questi ragazzi che tendono un agguato a dei poveretti che stanno passeggiando per un parco, quindi tutta una storia molto dinamica, che però spreca appunto ben dodici pagine per questa intro piena di dinamicità, e taglia molte cose, cioè ci sono davvero delle, dei salti nella trama che sono dei veri e propri tagli, al punto che non capiamo fino all'ultimo chi è il famigerato assassino di questo numero. Per carità, una scelta sicuramente voluta per depistarci, ma che io l'ho anche interpretata come un, non un brutto modo di disegnare, perché disegni non sono malvagi, anche se risentono dell'assenza della colorazione, credo che questo disegnatore possa essere valorizzato al meglio con dei colori e non con il bianco e nero, ma i disegni non sono male, ma è come il disegno cerca di spiegare le cose che spesso fallisce. Un'altra delle cose che non mi è piaciuta, che ho iniziato a percepire appunto dall'editoriale di Recchioni, poi leggendolo nel primo incontro tra Dylan e Block in questo numero, per poi avere una conferma in un refuso di una pagina, che poi andiamo a vedere, che questa è l'ennesima storia riciclata dall'Old Boy, e questa cosa davvero io non ne posso più. Recchioni appunto afferma nel suo editoriale che Andrea Kella si è fatto notare nel numero 31 del Dylan Dog Maxi, che ora è chiamato Dylan Dog Old Boy, e quindi qua approda finalmente nella serie regolare. Ora, è una bella notizia, anzi, ciò anche poi ha un secondo pensiero, una seconda riflessione, ciò anche visto un bello spiraglio per quello che potrebbe succedere ad agosto, e poi ci arriviamo, ma lì per lì ho detto, ma siamo sicuri che non sia approdato nella testata regolare per caso? Siamo sicuri che non doveva essere l'ennesima storia dell'Old Boy, che poi è stata invece buttata nella serie regolare? E purtroppo così è, così è, lo capiamo, dall'atteggiamento che Dylan e Block hanno nelle vignette. Vediamo esattamente Dylan e Block che vanno al bar a bere qualcosa come due amiconi, lo capiamo dai dialoghi. Alcune volte i dialoghi sono stati corretti, ma il linguaggio del corpo fa capire che un disegno non si può correggere con la stessa facilità di una vignette. A pagina 16 Block fa una battuta sulla pensione, da quando è ricominciata la serie con il software reboot 666 e Block è tornato al lavoro come soprintendente, non ha più fatto battute di questo genere, e poi da quando un superiore chiama un soprintendente, quanto, non so se non sbaglio è il sindaco nella riscrittura, chiama un soprintendente per fargli il culo a strisce, semmai è il soprintendente che chiama l'ispettore. Tant'è che lo stesso Block viene chiamato in poche vignette di distanza, prima soprintendente e subito dopo ispettore. Lo vediamo qua, dove due agenti vanno a cercare Block in un pub e anche lì da quando due agenti vanno a cercare il soprintendente in un pub, vanno a cercare un ispettore. Lo chiamano soprintendente perché hanno corretto, ma subito dopo qua è ispettore, vuole che lo seminiamo riferito a Dylan Dock. La cosa bella di questo numero comunque è che si riscatta nel finale, il finale dove tutto finalmente viene svelato, tutti i nodi vengono al pettine, fa rivelare tutto il resto come una bella storia. Peccato che anche da questo punto di vista onestamente c'è un po' di confusione perché i personaggi, parlo proprio a livello di disegni, non mi sono sembrati caratterizzati benissimo. Ricordo comunque le storie di qualche tempo fa, a Pasqua per esempio ho fatto la recensione dei conigli rosa uccidono, dove un personaggio era caratterizzato sia a livello di disegni che a livello anche di lessico, di sintassi, in modo molto particolare, in modo che non ci si poteva sbagliare su chi fosse chi. E devo dire che in questo numero io mi sono un pochino confuso con alcuni personaggi, di conseguenza non ho ben capito, ho capito fino alla fine, ho capito alla fine chi era dietro tutto questo, però diciamo che avrei un attimino preferito che avessero caratterizzato meglio i personaggi comprimari perché ci sono i ragazzi dei boschi, ci sono i ragazzi invece per bene e c'è un po' di confusione. Inoltre ci sono un paio di flashback, come sapete io sono un amante dei flashback in gradazione di grigi, anziché bianco e nero, spesso in Dilan Dog ci sono i flashback sempre con il bianco e nero, ma con i bordi smussati, con i bordi della vignetta smussata, qui addirittura ci sono dei flashback dove nemmeno tutti i bordi sono smussati, quindi anche a livello editoriale ho visto tanta confusione tutto qui, non so, non so. Dicevo, potrebbe essere comunque non un errore, cioè prendere questa storia e metterla nella serie regolare, ovviamente in questo caso è un errore perché c'è persino il refuso in cui chiamano blocca ispettore, come nell'Old Boy, però potrebbe essere un, come si dice, un preludio di quello che potrebbe succedere ad agosto. Sappiamo anche dalle interviste fatte a Roberto Recchioni che ad agosto finalmente dovrebbero finire le famose storie della serie regolare che gli autori avevano scritto per Dilan Dog prima che ci fosse il ciclo della meteora e il soft reboot 666 e quindi ci saranno tutte storie nuove dove la continuity post soft reboot non dovrebbe più avere problemi. Come sappiamo comunque Labonelli deve, deve, ha degli autori che sono fissi, che hanno comunque, che devono mangiare anche loro, che devono lavorare e usano quegli autori per determinati personaggi, per determinate testate e quindi nella serie regolare ci sono quegli autori, nell'Old Boy ci sono invece magari degli autori più sperimentali e se da agosto tutto questo dovesse cambiare, se da agosto tutto questo dovesse ribaltarsi, quindi se gli autori storici, diciamo, finissero nella testata Old Boy, dove forse è più giusto che appartengano lì proprio perché appunto sono gli autori storici e quindi potrebbero trovare un'ottima collocazione, un ottimo riscontro di pubblico scrivendo storie Old Boy e gli autori che finora sono stati nelle collane sperimentali come il Color Fest e l'Old Boy attuale, cioè il Dilan Dog Maxi, finissero nella, finiscano, finiranno, mettete voi la coniugazione che volete, nella testata regolare e quindi dando un po' di linfa nuova, un po' di aria nuova a finalmente al Dilan Dog serie regolare che potrebbe magari tornare a competere con altre testate concorrenti più fresche, scritte da autori più giovani, disegnate da disegnatori più giovani quindi più freschi, potrebbe essere la strada per il vero reboot di Dilan Dog, il vero cambio di rotta di Dilan Dog, il vero rinfrescare gli armadi della testata Dilan Dog che non sta avvenendo attualmente, potrebbe avvenire questo ad agosto, ma è solo una supposizione ispirata da questa ennesima storia che doveva essere dell'Old Boy e è stata buttata nella serie regolare. Magari un esperimento in vista di quello che potrebbe essere, magari solo un caso. Chi lo sa? Ai posteri l'ardo sentenza. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in una recensione un po' diversa dal solito, dove non ho parlato tanto della trama, della storia, che potete comunque leggere trovandola in edicola, ma di quello che mi ha dato a sensazione anche per il futuro della testata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, scusate se ci sono stati alcuni tagli e cambi di inquadratura, ma ho avuto problemi con il mezzo con cui registro. Vi ringrazio, come sempre, per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie.